Ciao a tutti, il 20 e 21 settembre votiamo sì per tagliare 345 parlamentari, 345 stipendi d'oro. E sono tanti i motivi per dire sì a questa riforma. Durante questa campagna referendaria spiegheremo ai cittadini, punto per punto, perché è importante dire sì e perché invece la casta si sta unendo per provare a disinnescare questa riforma epocale. In Parlamento e la Camera l'hanno votata tutti, tutti quei partiti che ora, così a brille sciolte, lottano per sabotare questa riforma perché vogliono mantenere le poltrone. E uno dei motivi per dire sì è mandare a casa al prossimo giro quei parassiti politici che non mettono mai piede in Parlamento e non vengono mai a lavorare. Partiamo da chi detiene il record, il Guinness dei primati, Michela Brambilla, con il suo 98% di assenza. Gli italiani la pagano 13.000 euro al mese non per venire in Parlamento, ma per fare una trasmissione sugli animali nella tv di Berlusconi. Ma vi sembra normale che un'eletta non metta mai piede in Parlamento? Ma questa è veramente una vergogna assoluta, assoluta, una mancanza di rispetto per gli elettori totale. Per non parlare poi di Antonio Angelucci, 94% di assenza e descritto molto bene da questo breve servizio di report. Guardate. E che ha portato a questa situazione? Le giunte di destra e di sinistra, tutti hanno portato qua. Qui ci sono delle lobby e degli interessi enormi, enormi. Angelucci, Angelucci era un portantino, il vecchio era un portantino del... Ma che stiamo... È un po' continuo. Ma stiamo registrando? Sì, certo che stiamo registrando. No, no. Difficile parlare di Antonio Angelucci, il patron di una rete di cliniche e RSA nel Lazio in Puglia. Parlamentare di Forza Italia, proprietario del Tempo, Libero e altri piccoli quotidiani, dalla Regione Lazio incassa 111 milioni di euro l'anno per i suoi vari centri San Raffaele. Poi ad aprile scoppia il Covid dentro la sua struttura di Rocca di Papa. I NAS parlano di 161 casi, la ASL di 17 decessi. Le insufficienze nella sorveglianza sanitaria spingono la procura di Vellettri ad aprire un'inchiesta e la Regione Lazio ad avviare la revoca dell'accreditamento. Lei ha la sua controllante in Lussemburgo e Financo a Cipro. Perché? Non so di queste cose, non me ne occupo di queste cose, assolutamente non. Ma lei è il numero uno. E che vuol dire che so il numero uno? Però non me ne occupo di queste cose, come lei mi sta parlando di giornali, di queste e queste cose. Sì, è vero che a capo sto, diciamo, questa macchina che sto io, ma non so di queste cose. Non me ne occupo. È un problema legato al fisco, immagino. No, perché? Non capisce che se uno va in Lussemburgo e a Cipro dà la sensazione di voler nascondere qualcosa. Ma che devo nascondere? Cioè a questo personaggio paghiamo uno stipendio da parlamentare per non fare nulla, niente. Ma andiamo avanti. Vogliamo parlare per esempio di Vittorio Sgarbi? 79% di assenze. E le sue ultime veramente sceneggiate, ridicole, vergognose alla camera sono incommentabili. Quando è stato cacciato di peso dai commessi per chi aveva combinato un disastro in aula, quello forse veramente è stato il punto più basso del Parlamento della Repubblica Italiana. Veramente, questi parassiti io li voglio cacciare dal Parlamento insieme a voi. E non possiamo poi non parlare di lei, di Giorgia Meloni. Con il suo 70% di assenze passa più tempo ad urlare a caso su Facebook contro Giuseppe Conte, a fare la sua solita e becera campagna elettorale, la sua propaganda, ad andare in giro per l'Italia pagata dai cittadini per raccattare qualche voto, qualche like su Facebook, piuttosto che lavorare alla Camera. Contributo alla causa, alle proposte per sostenere l'Italia e il nostro paese? Zero, da parte di Giorgia Meloni. Perché per lei bisognava dare mille euro a tutti con un click, così poi i controlli si facevano dopo. Queste sono le proposte per salvare l'Italia. Ma andiamo avanti. Come non citare, per concludere, il suo carissimo amico Matteo Salvini, il re del papete, che ha appena l'11% di presenze in Senato. Praticamente a Palazzo Madama, quando arriva all'ingresso, non lo fanno entrare perché non lo conoscono, non lo vedono mai, perché è troppo impegnato a girare l'Italia, senza mascherina, facendo pericolosi assembramenti, invitando le persone a non rispettare le regole. Come diceva qualcuno qualche giorno fa, un vero gaglioffo, un gaglioffo con i fiocchi. Ragazzi, con la riduzione dei parlamentari, voluta fortemente dal Movimento 5 Stelle, i parassiti della politica come questi finalmente scompariranno. Meno deputati e meno senatori significa anche più controllo sul lavoro degli eletti da parte dei cittadini, più responsabilità, più efficacia nella zona legislativa, più qualità. Il 20 e 21 settembre votiamo tutti insieme sì al referendum costituzionale. Tagliamo 345 poltrone ed accorciamo le distanze tra i cittadini e la politica. Coraggio e ci vediamo presto. Grazie. Grazie.